I suoi idoli sono Valentino Rossi e Fabio Quartararò. Sogna di diventare un pilota professionista, Fabiano Fiaccabrino, 13 anni, campione regionale dopo le quattro tappe del campionato nazionale velocità ovale GP0, che si è svolto nella pista di Villa Rosa in provincia di Enna. Fabiano gareggia nella categoria 160 Rockies, 16 giri da percorrere in un circuito di sali e scendi con tornanti lungo circa 900 metri nella pista di Villa Rosa. Il giovanissimo pilota gelese che gareggia per la DS Motors ha stupito tutti per la sua freddezza in pista. Corre soltanto da un anno ed ha già conquistato le quattro prove selettive con il diritto di correre per la finale di categoria in programma dal 4 al 6 ottobre ad Adria. Sette le categorie in gara. Fabiano si è presentato con l'ottavo punteggio su 36 piloti in pista che si sono sfidati in diverse regioni d'Italia. Il progetto ovale GP0 è nato da un'idea di Valerio D'Arlio, profondo conoscitore ed esperto del settore. La GP0 è infatti un nuovo concetto di moto, non proprio una minimoto ma una mini GP. Malgrado sia piccola come moto, con ergonomia accessibile e facile giocosa e permette comunque una guida estrema, da vera motor racing. Fabiano Fiaccabrino frequenta la terza media alla Mattei di Gela ma uno o due volte a settimana si reca ad un circuito, quello di Vittoria, per allenarsi e adesso sogna il titolo tricolore. Grazie a tutti.